musica 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 oh vaju ma che rè basta con questo pallone ve lo buco basta veramente eh ma è esagerato questo pallone mandaci si fa così ma prendi forse e fate buono non vedrebbe chi è che non ti fa la porta vieni vieni fai un presto scusate capo questo valore mi sto allenando in questi giorni so che si fa qualche torneo per questa parte e quindi mi sono messo in forma il pieno di questo valore è al sito ma vedo il salvatore mettici per tutte cose tu hai fatto una pescata e ce l'ho pensato e allora capo mi date qualche indicazione per questo torneo mi spiegate qualcosa frate che stupido tu hai già visto la finestra e non solo la finestra comunque prima di iniziare fai una bella preparazione a Montevergine perché stavo guaiate perché mi sono ucciso comunque allora il 18 settembre partiremo con il torneo di calcio a 5 per la prima volta con Opes grazie a Michele Lettera e vorremmo fare 16 squadre e l'iscrizione sarà completamente gratuita i completini li diamo noi con i nostri vari sponsor tra cui gli ultimi recenti sono light body asservazione paesano e parietà e parietà di stani e la notizia più importante che quest'anno chi vince dal torneo andrà a giocare la finale provinciale in un palazzetto lo sport nel napoletano con la possibilità poi di andare a giocare le regionali e forse le nazionali ma è troppo bella la mano perfetta queste se la squadra facci sapere tramite i nostri video se la squadra facci sapere tramite i nostri canali oppure whatsapp il nostro numero il mio numero è 334 933 3740 romano giuseppe su facebook romano giuseppe io personale facebook perchè purtroppo abbiamo due contatti uguali non solo psicopatico ma abbiamo due contatti la fisso c'è la pagina ufficiale e la fisso c'è il challenge su instagram basta che stai parolatissimo poi se tu vuoi una maniagata una maniagata hai sempre di questo non dovrì hai sempre di questo poi comunque dopo questo torneo di calcetto poi faremo un altro di calcio a 9 sarà uno spettacolo poi vi diremo o no stai in un momento sei qui? che devi seguire? niente la mia ragazza che sta in bagarre si però ci ritrovi vedi ma cosa hai detto? ma giuseppe sa che vi stai palleggiando tutto quando lui andava a te stai a fai 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 per me c'è una malattia valla che a me c'è la possibilità ma giuseppe valla che a me valla che a me carpa e' una cavista lo andati io dobro vieni io 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 Grazie a tutti.